Al di là di quello che è stata la prestazione, c'è da tenere conto che di fronte avevamo comunque una squadra importante e aver fatto per un'ora tutto quello che c'era da fare è veramente una soddisfazione e un orgoglio per me che alleno questi ragazzi e questi ragazzi che fanno un lavoro straordinario. Peccato non averla chiusa con qualche gol in più e poi siamo lì tutti nel calderone, nessuno sta mollando perdi una partita sembra che sei sotto, la vinci sei sempre lì e non hai fatto niente e quindi è bello perché noi ci siamo. L'ho detto anche dopo la partita con la Juve Stabia, prestazione eccellente, siamo stati dei polli perché abbiamo preso due gol barra tre da polli e per quello che riguarda stasera prestazione straordinaria e perfetta. Ma tutti vogliamo vedere perché non abbiamo perso la partita e quindi quando si ricevono alcune critiche perché la squadra non vince bisogna andare oltre, il mio lavoro è andare oltre e quindi come dicevo dopo la partita con la Juve Stabia la prestazione era stata, viste le avversità della partita stessa ambientale dell'avversario che incontravamo è stata una prestazione importante, stasera l'abbiamo fatta allo stesso modo, siamo stati più bravi a non prendere diciamo gol su palla inattiva, mi dispiace averlo preso perché sarebbe stato più bello il 4-0 però sinceramente non mi va di parlare del gol che abbiamo preso perché è una prestazione veramente importante sotto tutti gli aspetti senza concedere niente, è una squadra che è veramente forte e temibile e quindi rinnovo i complimenti ai miei giocatori.